buongiorno a tutti i venitori di youtube sono volt e bentornati a questo video zombie tsunami ci eravamo lasciati con lo sbloccamento se esiste questa parola dell'acqua tonica con bacchabudello ho registrato due video prima ma si sono bloccati tutti e due come è successo anche ieri e due cose che ho fatto ho aumentato con l'acqua tonica ma niente di che quindi non vi siete persigliate ho scoperto che per sbloccare per averne due cioè te ne da due solo all'inizio se tocchi questa cosa dopo però devi in senso vi spiego tu è un personaggio iniziale tu schiacci questa cosa e all'inizio te ne da solo due basta non te ne sdoppia più tutta la partita inoltre adesso devi comprare devi pagare e questo è il colno è come se tu compri una roba che costa mille euro servono le batterie da mille euro cioè oppure tu compri cosa mille euro ma per accenderlo di spendere altri mille euro non è giusto stesso è una truffa però vabbè salta e all'inizio è proprio lentissimo sto gioco e quindi è proprio roioso dopo un po' stesso all'inizio poi diventa più veloce fatto che si bloccava oggi è successo così ieri è un'altra cosa se si bloccava perché io mentre giocavo schiacciavo il tasso lì di pausa e poi non riuscivo più a farlo ripartire e quindi era molto anche colpa mia perché non riuscivo a saltare quella bomba senza senza più cadere nel vuoto mangia il signore e salta il burro mangia il signore io vi recluto per mangiare le persone e per le mangiate cos'è? Tsunami! 9 persone buone perchè buffo? 9 5 2 quanti? 8 dimmi 8 9 addirittura 1 2 1 2 3 4 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 100 100 1 12 3 4 5 9 10 Io non so quando farei video, non ho un giro preciso, perchè ne tanto posto ne avrò un posto, quindi li farò quando usciano sul canale, quindi voi dovete solo stare sul canale e aspettare che esca un video se esce. Cioè no, dico, dovete stare tutto il tempo sul canale, quando arriva la notifica del video guardate il video, così dico. Sì, vabbè la faccione. Questa è becca? Baluno. Dove ho mai avuto Baluno, sinceramente? Il colmo l'assimilasciano da sé, questo potere si fermava sopra una bomba. No, ci sono circa un minuto. Sì, vabbè la bomba è sporca. Vai, salta! Salta! Guarda. Che casino! Non ci sto capendo più niente! 6.900, ok. Eriamo in 14. Ma io ho saltato, ma io ho saltato, ma io ho saltato, perché gufo, perché gufo, perché gufo, perché gufo. Vinci un gratto e vinci. Caccolo. Ho finito, eh? Sì, cosa mi dai di poter... Ho sbloccato un nuovo scenario, mi mi serve nella vita sbloccare i scenari, mi. Mi dico 363, vediamo cosa posso comprare il negozio e poi chiudo qua il video, il video. Macchine di moneta, che bello! Sì, si, aspettate un attimo. Sì, ok. Sì, ok. Prendo... Bombe di monete, sì. Anzi, faccio tutti e due. Compra... E compro, ok. Ora voglio... Ascolta, non chiudo qua il video. Voglio... Voglio provare? Questa modalità e poi... E poi chiudo il video. Vai, salta. Dai, cominciano ad arrivare bombe e macchine. Le bombe arrivano subito. La macchina arriva a aspettare un po'. Prova. No, che scema. Vabbè, mi muore un personaggio, però almeno guadagno delle monete. Ok. Quindi adesso mi... Mi prendo le bombe così. Sì. Mi prendo le bombe senza che io muoia. E posso salire così. Così. Ok. Mi prendo le bombe. Ah, non mi tocca. Non, 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 non. No, non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. no non voglio usare tanto non c'è comunque ho finito questo video quindi così devo finire qui mettete like se per il giorno vi è piaciuto questo video mettete nei commenti su guardate già che vorrete che faccia dei video e ciao alla prossima